Ciao ragazzi, volevo condividere alcuni pensieri, alcune riflessioni con voi. Nei giorni scorsi stavo pensando un po' a tutta la mia attività, al mio canale di YouTube e come fare a migliorarlo, a cercare di crescere sempre, no? Ed è stato inevitabile anche riflettere su chi sono, nel senso che, come sapete, ci sono tantissimi insegnanti su internet e in Italia in generale, però è innegabile che il mio canale abbia avuto più di altri un certo successo, un certo riscontro. Quindi, quello che mi stavo chiedendo è se ho qualcosa di speciale che mi caratterizza, che cos'è questo qualcosa di speciale e che mi caratterizza. E per fare questo ho pensato a quello che mi dicono sempre le persone, sia nei commenti sotto ai video, ma anche quando le incontro alle fiere, no? La cosa che mi fa più piacere e che mi dicono più spesso è Claudio, tu mi hai aiutato a capire. C'è questo elemento proprio del capire, della comprensione. E, come sapete, io ho realizzato anche tanti tutorial di canzoni e sicuramente sono una parte importante di quello che faccio, ma i video che hanno avuto più successo sono stati proprio quelli che hanno permesso di capire qualcosa. Per esempio, capire il tempo o capire qualche cosa di teoria sulle tonalità o capire come gestire il metronomo o il piede. Ne ho fatti tanti. Quelli sono stati video che, più di tutti, sono stati di fatto apprezzati dalle persone. Quindi io credo che ciò che caratterizza il mio stile di insegnamento e che deve caratterizzare il mio stile di insegnamento sia proprio il fatto di rendere consapevoli le persone. E quindi di riflesso sia quello che caratterizza anche la community dei guitarnauti. Quindi quello che abbiamo, secondo me, che dobbiamo avere noi di speciale rispetto agli altri è proprio il fatto di essere consapevoli musicalmente di quello che facciamo. Più volte, come sapete, ho parlato delle tab come strumento didattico o meglio, di chi utilizza solo ed esclusivamente le tab in termini negativi. Ovviamente non ho nulla con chi vuole semplicemente rilassarsi ed imparare un brano con una tab, va benissimo. Ma è un approccio che, secondo me, alla lunga ha le gambe corte e porta ad annoiarsi e porta alla frustrazione proprio perché non permette di capire, non rende consapevoli. Qualche tempo fa stavo pensando a quale potesse essere uno slogan che rappresenta bene questa idea. Quindi ho lanciato una sorta di sondaggio su internet, su YouTube, su Instagram, avete risposto voi, e quello che ha preso più voti è stato Non a caso, e sai cosa suoni. Quindi questa frase che echeggia una pubblicità di Renzo Arbore degli anni Ottanta, poi ripresa anche da Vasco in bollicine, è come sta di fatto che è una frase emblematica, e sai cosa suoni, proprio della consapevolezza in quello che stiamo facendo. Ho quindi iniziato ad inserire questo slogan nel banner del canale di YouTube, nel banner del gruppo di Facebook, nella newsletter, perché sono convinto che davvero, come dire, condensi bene questo tipo di mentalità. E voi vi starete chiedendo, sì, ma perché lo stai dicendo a noi? Lo dico a voi perché mi piacerebbe che condivideste questa filosofia, che la condividessimo, e che mi aiutaste a diffonderla più possibile, perché sono convinto che faccia bene, che sia una cosa salutare per il mondo della musica, per il mondo dei chitarristi e dei musicisti in generale. Mi rivolgo in primo luogo alle persone che studiano con i miei corsi online, ma non solo. Io penso che il diritto a capire sia un diritto di tutti, di chi è autodidatta, di chi studia in una scuola, di chi studia con un insegnante privato. Pretendiamo sempre che gli insegnanti ci facciano capire quello che facciamo e diffidiamo di quelli che ci dicono fai così, è così perché te l'ho detto io, perché sono l'insegnante. All'atto pratico vi invito quindi ad abbracciare questa filosofia, e fare vostra espressione, e sai cosa suoni, e utilizzarla nei vostri post, o quando discutete con altri musicisti sui vari gruppi Facebook, o sui vari forum, utilizzando magari anche proprio l'hashtag e sai cosa suoni. Beh, io credo che facendo questo contribuiremo a diffondere una cultura musicale sana e renderemo la nostra community dei gitarnauti ancora più speciale, ma di riflesso aiuteremo in generale il settore musicale e dei musicisti a crescere. Fammi sapere cosa ne pensi di questa filosofia e di questo modo di intendere la musica. Io da parte mia continuerò a fare del mio meglio, per farti raggiungere un risultato in cui ti diverti, migliori e sai cosa suoni. Ciao!